L'Aquila arrivata in terra laziale con le pile probabilmente scariche chiude la stagione con la sconfitta in casa del Rieti che si aggiudica così playoff del Girone G grazie al 4-1 inflitto alla formazione di Battistini. Per come si erano messe le cose a metà stagione a Mininclieri e compagni vanno però fatti complimenti al termine di un torneo caratterizzato da problemi, veleni, contrattempi e tanto altro. Applausi al 91esimo e Rosso Blu anche da parte dei cento ed oltre tifosi arrivati nella vicina Rieti. Allo stadio Malios Copigno Centro Italia si comincia con i due undici annunciati alla vigilia. Nell'Aquila ceppe l'uso dopo l'annullamento della squalifica. Sugli spalti 700 spettatori con un centinaio di tifosi aquilani che ad inizio gara espongono uno stricione in ricordo del recente sisma che ha colpito il reatino. Al settimo minuto Tirelli prova la conclusione a sorpresa dei 25 metri con il pallone che finisce però sopra la traversa. Passa un minuto e mezzo e ci prova di testa Masala con Farroni che controlla senza silli. Sono i padroni di casa a fare la gara con il vantaggio locale che arriva così con Tirelli al 21esimo con il capitano reatino bravo in area abruzzese ad essere il più lesto di tutti e ad insaccare. Al 33esimo arriva la prima emozione di marca aquilana con un tiro violento di Peluso che non inquadra di poco lo specchio della porta di Kucic. Ma il Rieti è quanto mai cinico visto che al 35esimo scotto di forza e di potenza dall'interno dell'era di rigore supera per la seconda volta l'incolpevole Farroni. L'Aquila non ci sta ma al 43esimo è il palo interno a dire no a Dictevicius con il portiere reatino battuto. Nella ripresa si riparte al settimo con il Tris di casa e con Trillo che davanti a Farroni non sbaglia chiudendo con largo anticipo la contesa. La gara scende di tono con i ragazzi di Battistini che si vedono al 16esimo con Valenti che colpisce la parte superiore della traversa. L'Aquila sembra crederci un po' di più nonostante tutto anche perché al 19esimo trova il gol del 3-1 grazie ad un rigolo realizzato da Minincleri per un fallo subito da Valenti ad opera di Valeri. Al 26esimo punizione di prima in aria per il Rieti dopo la parata con le mani di Farroni su un retropassaggio. Si incarica della battuta di Bari con la barriera umana aquilana che respinge l'ultimo quarto d'ora di gara. Regala al 39esimo il poker laziale. Arboleda commette fallo in aria su scotto con l'arbitro Gualtieri Diasti che indica ancora il dischetto. E con Marcheggiani che con un cucchiaio va a superare l'estremo aquilano. Finisce la partita e si chiude la stagione per l'Aquila ma da domani bisognerà iniziare a pensare al prossimo torneo. Un'importante partita si giocherà anche in società dove potrebbe passare la mano l'attuale presidente Corrado Chiodi. Chiunque sarà però al timone dovrà lavorare per riportare in alto i colori rosso-blu così come chiedono i tifosi. Raspata allora diciamo subito che a questa squadra probabilmente vanno fatti complimenti per questo finale di stagione. Il fatto che alla fine la squadra sia andata sotto la curva a raccogliere l'applauso dei tifosi la dice lunga sul fatto che questa tifoseria ha capito quello che hanno fatto questi ragazzi fino ad oggi. Sì bravo la tifoseria ha capito che questi ragazzi hanno dato non il 100% il 120% e se li meritano tutti gli applausi di questa gente perché poi è venuta perché poi questa gente è anche venuta in Sardegna anche nei momenti difficili c'è sempre stata quel poco che potevano fare vicini e i ragazzi gli hanno dato tutto. Quindi ripeto lo ripeto l'ho già detto bisogna fare solo un grande applauso a questi ragazzi perché hanno dato il massimo. No c'è stato superiore Rieti bisogna dirlo cioè bisogna ammetterlo non è che bisogna trovare le scuse o gli alibi. Noi siamo venuti qua pronti preparati come tutte le altre partite come quelle che abbiamo fatto a Monterosi come quelle che abbiamo fatti prima. Solo che oggi Rieti ha avuto un qualcosa in più. Per quanto riguarda il futuro lei Battistini sperate di restare e di ripartire dall'Aquila nella prossima stagione? Non sono i tempi giusti non posso dire niente su questo chiedete la società. Ultima cosa come avete vissuto questi ultimi mesi all'Aquila con tante difficoltà? Bene abbiamo lavorato benissimo siamo stati con i ragazzi abbiamo fatto gruppo abbiamo lavorato bene non ci è mancato niente almeno sotto livello tecnico non ci è mancato niente.